Tre comunicati stampa, tre comunicati stampa di tre consiglieri comunali, tutte e tre con la stessa domanda. Corona, Cozzi, Salvi, chi pagherà le spese del collegio arbitrario del comune di Teramo contro il Ruzzo? Quei 15.000 euro. Siamo andati dal sindaco D'Alberto per avere la risposta. Pensavo di essere stato già chiaro. Noi abbiamo contestato fortemente il metodo, non le persone. E la decisione del collegio arbitrario sul lodo parziale è semplicemente una decisione procedurale che chiarisce che il contenzioso procede tra il comune e la società e non nei confronti dei singoli amministratori, perché non è una competenza del collegio arbitrale, chiamati come organo, come CDA e non come singoli componenti. Quindi è una decisione procedurale che è solo parziale e rispetto alla quale nel complesso della decisione attendiamo quello che è il lodo definitivo. Dopodiché questa azione è finalizzata proprio ad evitare che si continuino a gestione delle società partecipate tutta politica che stanno pagando oggi i cittadini teramani anche e soprattutto per le gestioni politiche degli anni precedenti. I 15.000 euro? I 15.000 euro sono oggetto di una pronuncia del lodo parziale che, a parte il fatto che i 15.000 euro è un costo complessivo che è stato valutato non so da chi, saranno altri a doverlo valutare, sono costi che verranno definiti poi nel lodo definitivo complessivo perché la partita è soltanto parziale e procedurale come dicevo prima. Il dispositivo sembrava definitivo? Lì c'è una valutazione relativa all'estromissione degli amministratori, ma il vero problema non è fare una causa per pagare o non pagare le spese legali o i costi di giustizia. Il vero problema è fare un'azione di coerenza rispetto all'azione politica che abbiamo portato in sede di assemblea per evitare che la gestione delle partecipate costi ai cittadini teramani molto più rispetto a quello che è un costo di giustizia. Però la domanda rimane, i costi della giustizia chi li pagherà? I costi della giustizia quando verrà definito il lodo vedremo chi li pagherà. Ma ripeto, i costi della giustizia sono finalizzati ad evitare costi per i cittadini teramani.